ragazzi allora secondo me hanno fatto bene in questi ultimi giorni perché con la partita di Napoli e l'Inter che hanno giocato e quindi io dico la mia sola questione degli interisti che portano con io andrò a scuola 15 da 10 anni e questo mi sta bene ok e questa è la prima cosa fondamentale poi la seconda cosa fondamentale è che gli antiguentini dicono che l'inventus andrà inseribile inseribile cioè io di questo mi soffermo perché come cavolo si fa pensare una roba del genere che trattando tra l'altro io devo arrivare allo scontro di setotto a Milano e poi tu dici a te che rimani inseribili tu non mi lo dici mio caro amico interista tu non meriti la Champions League mio caro quindi nemmeno il Napoli non può partecipare perché sarebbe una follia quindi prendendo anche il Napoli in prima posizione campione d'Italia e quindi mi metterò ok poi c'è Maumentus che va in seconda posizione sul campo più nella sentenza ci ho messo anche e poi c'è la Nazio Milano Inter ok poi c'è la Roma e la Fiorentina al settimo ok questa è la mia opinione sulla classifica quindi a me così così come l'Atalanta stanno hanno l'opposto quest'anno perché non dovrà fare un battito pieno contro i nerazzurri ma dimmi se ci arriva ancora in Champions League se non mi ha battuto Milan o mi ha partito già quindi ci basta solo una vittoria e quindi possiamo dire che il Milan se ne avrà entrato con il Milan nell'ultima giornata e quindi vendiamo con chi facciamo i conti ok però mi dico una cosa che siccome stasera c'è Fiorentina Inter io me la vendo a tranne il primo nel secondo me la vendo ok quindi noi ci vendiamo stasera per il post partita quindi ci vendiamo stasera per commentare la partita quindi mi raccomando prima direi perché comunque l'Inter Ne ha vinte nei finali, ok? Prima il campionato del 2010, poi Coppa Italia che l'ha portata e la Champions League. E ha fatto i tripleti. E non si può mancare se morì, l'ha fatta la Champions League. Forse in Champions era ridicolo, caro Souza, che tu l'hai portata fino al fri gioco di Milito contro la Dinamo Kim, poi contro il Chelsea, poi in Barcelona tra andata e ritorno e fanno di mano non visto, ok? Poi, Alfredo mi sembra contro il Bayern. E' un angio che mi perde. Quindi, falo mano di Michael, così, come ragioniamo certo, e nessuno l'ha visto. Come mai che non si è parlato di quello che ha metto in domani, cari interessi, onesti, eh? per il nostro palù. Allora io, questo fatto qua, non lo accetto, perché tu hai rubato una Champions League ridicola, ok? E lo dico per io, perché voi non sapete leggere le partite, quali sono, quindi smettetela di fare così. Per inapolite non c'è una vergogna, perché me ci l'ho trattato quest'anno. non lo dovete fare. Ok? In Milano, l'anno scorso, dal 2021 al 2022, che è in Toriente, in Coppa Italia, che è la nonna, morta, che va in finale, e quindi, tu avrai zero titoli, per cari interessati. Qui sta a parlare. Ok, caro Simone, perché non ti ci ho fatto? Sì, non ti ci ho fatto, non ti ho fatto, non ti ho fatto, non ti ho fatto, non ti ho fatto un po' di interista, perché non dobbiamo sempre pagare noi. Ma io mi devo comunque pagare. perché? Sì, abbiamo sbagliato, è vero. Sì, però noi venturi entra nella superlenga e le mette una cuccia, ok? Perché i signori manieli hanno detto che la superlenga si dormiva a fare. Sì, è stata riaperta la superlenga. Sì, perché se non c'è ferito, ciò non si qualifica fuori dall'Ecopa Europea, sia nell'Europa League o in Champions, ok? Sì, ma io me lo guadagno sul campo della Champions League. Sì, mi non deve prendere o deve perdere nell'ultima del campionato contro l'Enerona. Prima, se c'è capitano, ok? Mi raccomando, e non fate scherzi perché domenica sera si gioca, ok? Si gioca con la testa, la rabbia che abbiamo fatto contro l'Esimilia, e poi quella contro i Napoli, e poi questa sconfitta con Tempoli. E io non me la perdono comunque quella sconfitta nì. Non me la perdono. Perché voi io mentini? Anzi, non io mentini? Si dovrebbero solo meravigliare. E non gli amici io mentini, ma quasi nella maggior parte del tifo, ok? Quello è il problema, che se come tu, caro io mentino, non sei degno di parlare, allora te ne puoi andare lì, a quel paese, te ne vai. tornai a fanculo, ok? Questo è il mio pensiero. Basta cazzate nella vita quotidiana, e basta cazzate anche contro su un alleatore che mi genera dieci anni, da questa parte. Come mai chi ne sono arrivato quest'anno? Io non lo penso, perché io non difendo comunque, ora dove stanno tutti gli atti, ora dobbiamo ricorrere alta un'altra volta, e togliere questi punti di penalizzazione, contro una sentenza dei meno dieci punti che ci hanno infatti, perché comunque, ma garanzia dei coni, dovrà dare ragione alla Jumentos, che ha sempre dato ragione alla nostra squadra bianconera, e non di certo per coppa dei napoletani interisti e cari atalantini, anche, anche nella Milano, che ci hanno lamentato soprattutto, che siamo in Andri, in Italia, siamo in Andri, non è vero, l'abbiamo meritato sul campo, con le vittorie lì, come ha detto il Mirà, sul campo, non abbiamo nelle partite, sul campo, sul campo, ok? Sul campo l'abbiamo fatto, sul campo, la prestazione dei ragazzi a Nemboi, hanno dato zero alla squadra, zero, per coppa vostra, coppa vostra, che se giochiamo di merda, allora ci scordiamo pure dall'Europa, i miei giorni stanno in Seria, se ci dobbiamo iscriverci, oppure no, ok? Quindi, nella prossima stagione, vediamo. E tutto quello che hanno detto, io ho detto, per i Napoli, gli Interisti, i Milanisti, l'Atalanta, e tutto questo qua, a Roma, e basta, perché Mourinho ci difende, e fa bene a difenderci, quindi questo è il campionato falsato, che non è bello questa cosa qua. Quindi, campionato falsato, è tutto inecito, perché voi, cari Napoletani, si avete vinto, ma non uno sconnetto dell'onestà, quindi questo è tutto, quindi aprite Lucchi domenica, ok? Ma io momento per fare un altro passo avanti, e guardiamo anche il futuro di questa squadra, ok? Il futuro, dei giovani, e dei ragazzi, di talento, come i vari fagioni, eh? Mi retti, anzi, sono anche, poi ci sono anche, i prestiti, che vogliono tornare, più, io accenderei anche a questi qua. Quindi, il futuro sono, i fagioni, i Pogba, Milingo, Mici, Samic, Romena, Arthur, Kluseschi, Anche allo stesso, con i boni, per l'anno prossimo. E questi sei ce ne muoiono, ok? Ma io non posso escondere l'anima via così. Nemmeno, ma la unica chiesa. Non posso escenderli. Io non posso escenderli a questi giocatori qua. Perché sarebbe una schifezza. Una schifezza. Se li dobbiamo escendere. E' una schifezza. Quindi, questo campionato qua, è imbroniato da Napoli. Tutto fassato, comunque. Tutto fassato. E' l'ultimo per stasera nella post partita, ok? Quindi, iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche, per non perdere i prossimi appuntamenti. Appuntamenti. Quindi, stasera, per giù. Per venerdì, sabato o domenica. E poi, si ritorna a preparare un istangolo nelle mie mani. Tutto qua, like e commenti per la partita di domenica sera. Quindi, a più tardi per la partita. Quindi, Fiorentina-Inter in Coppa Italia. E mi preparo anche dello Sfranc. Sfranc, 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 Sfranc. Ok? Tutto è sembrito. Ok? Mi raccomando. E non mancate. Sfranc.